Come trovare dei vantaggi, soprattutto all'inizio di questo campionato, dove ci sono molte squadre costruite da zero? Noi si partiamo da zero, come hai detto te. Si partiamo da zero perché è vero che noi da tre anni, alcuni da due, quelli che sono nuovi, sono insolentrati, integrati bene. Noi si partiamo da zero, quindi dal 22 è un punto di partenza per tutti. Affrontiamo partita per partita e sicuramente noi non avremo paura di nessuno, però rispettiamo tutti gli avversari.